Si alza considerevolmente dunque il livello di guardia sulle allerta meteo. Se prima le ordinanze di chiusura delle scuole venivano diramate solo in presenza di eventuali codici rossi, adesso evidentemente è già sufficiente anche solo quello arancione. I timori per alunni e studenti delle scuole di ogni ordine e grado rischiano evidentemente di generare una sorta di psicosi nelle famiglie, ma naturalmente anche in chi ricopre ruoli di responsabilità. Già ieri sul sito regionale della protezione civile e quadranti nei quali è stata suddivisa la cartina geografica della Sicilia erano tutti arancioni, senza differenze cromatiche né climatiche. Situazione questa che permarrà almeno fino alle 24 di domani sera, cosa questa che tiene i singoli uffici comunali e i sindaci, in particolare Fibrillazione. Dalle nostre parti sono stati i primi cittadini di Agrigento, Calamone, Ceribera 24 ore fa a ordinare la chiusura delle scuole per la giornata odierna. Nel tardo pomeriggio poi anche altri sindaci, tra cui Francesca Valenti, hanno fatto la stessa cosa. A Sciacca la decisione è stata presa al termine di una riunione dello staff di protezione civile comunale. La prudenza non è mai troppa, insomma. L'attenzione è puntata essenzialmente sulla capacità di canali di scuole torrenti, a Sciacca e al Canzanamone, di tollerare la quantità di piogge che si attende, come detto, anche per le prossime 24 ore. Si temono allagamenti, ma naturalmente anche si vogliono scongiurare possibili pericoli per le persone e la popolazione scolastica da sempre è particolarmente vulnerabile, almeno se confrontate le scuole con gli altri luoghi di lavoro, anche se tutte le situazioni di possibile pericolo meritano il medesimo rispetto. Anche per domani, martedì, le previsioni meteo sono tutt'altro che tranquillizzanti. Al momento l'allerta arancione della protezione civile regionale, ripresa dai comuni di tutte le province siciliane, rimane dunque più che confermata. Le previsioni di precipitazione sparse dalla tarda mattinata sono state rispettate, ma le piogge, dicono i meteorologi, saranno tendenti, diffuse e persistenti anche nella seconda parte della giornata, con fenomeni prevalenti a carattere di rovescio temporale, con quantitativi cumulati molto elevati sui versanti ionici e generalmente elevati sui restanti settori orientali, sui settori meridionali e occidentali. Si attendono temporali eventi forti e mari molto mossi. Insomma, stando così le cose, anche se bisognerà inevitabilmente attendere le ore serali, il codice dell'allerta induce a non escludere l'arrivo di vere e proprie bombe d'acqua e quantitativi sempre più alti in termini di previsioni di millimetri di piogge che potrebbero cadere anche domani. Sindaci quali dunque saranno ancora chiamati a decidere se ci dovesse essere la necessità di un'altra ordinanza di chiusura delle scuole. Nel versante riberese si guarda con attenzione al livello di guardie del fiume Verdura, situazione al momento tutto sommato sotto controllo. E intanto è scattata l'ennesima emergenza in Via Lido, zona che ad ogni alluvione subisce gravi conseguenze, questa volta dall'ennesima esplosione del collettore fognario della Perriera, situato all'altezza dell'incrocio con Via Isola Ferdinandea, i tombini lungo il costone sembrano pozzi artesiani con un getto d'acqua di circa 1-2 metri. Strada praticabile ma se continua a piovere come suggerisce sulla sua pagina Facebook l'ingegnere Mario Di Giovanna non lo sarà ancora per molto. E chiudiamo con quella che se non si trattasse di un fatto tremendamente serio sembrerebbe una scena comica, una panchina di arredo urbano è stata collocata urgentemente per transennare una buca all'incrocio tra le vie De Gasperi, Giotto e Mazzini, la foto indicativa di come in condizioni di emergenza ogni soluzione sia buona per evitare problemi ben più gravi. Si osservano i fenomeni meteo e le possibili modificazioni a cui il quadro generale potrebbe essere soggetto anche se al momento gli specialisti sono indotti a sostenere che prima di mercoledì non si prevedono schiarite, peraltro definite lievi. Decisione è quella di ordinare alla chiusura delle scuole che, manco a dirlo, sta generando il solito dibattito tra favorevoli e contrari. Oggi per i ragazzi è stata vacanza, la stessa cosa potrebbe ripetersi anche domani.